Allora, io, Jamaica Kid, nel video della Ganga Band non ce lo voglio! Mamma mia! Cominciamo con l'orgia domani. Che cos'è quello? Tutto io ho cercato di avvertirti. Padre, madre, tre figli e un nonno. Lavorano tutti nel porno. Nel porno? No, no, ho comprato, sì, abbiamo comprato. Certo, rispetto a Budapest qua a Roma avete dei prezzi fuori dalla grazia di Dio, da me. Ricky Santana, il più grande artore porno. Questo, vedi, questo sono io e questo è grande John Holmes. Negli anni 70, qui giravamo gli alabardieri della regina. Ma quando i cazzi erano cazzi? No, vabbè, cioè sta usando excitation come dopo, papà. È un olio per massaggi intimi. Sempre detto di lasciare la fascia da casa. Nonno?